Allora, Jimmy, non è la tua prima volta a Tennis and Friends? Non è il primo anno? No, è il primo anno. E giochi anche, oltre a partecipare, già hai giocato, ti abbiamo visto in campo oggi? Sì. Anche nelle scorse edizioni? Sì, no, ma io gioco, ma all'ero quasi tutti i giorni a Tennis, sono dei miei sport primari, quindi Tennis and Friends è ormai un appuntamento imperdibile per me. Poi il connubio Tennis con la prevenzione ed è fatta, insomma, e la cosa è riuscita, perché è importante fare sport, è importante la prevenzione, tanta gente quando sta bene si dimentica quanto è importante la salute. E poi quando ti ammali dici perché non ci ho pensato prima, invece prevenire è meglio che curare. Quindi basta veramente poco, essere un po' più attenti? Certo, poi alimentarsi bene, io non bevo, non fumo, insomma, non bevo alcolici, poi il bicchiere di vino ci sta, a me non piace, ma un bicchiere di vino non fa male. Non eccedere e comunque lasciare il fumo è la prima cosa, secondo me, se fumate siete sfigati. Dormire? Dormire bene e sdraiati, perché dormire in piedi è difficilissimo, se no sarei un cavallo, ma dormire bene. Allora, ma con tutti gli impegni che hai, con striscia, che devi andare a fare le tue inchieste, come fai a non essere stressato? Ma no, facendo sport, alimentandoti bene, ecco mi stanno chiamando, vedi, chissà che... Eh, parlavamo di stress, guarda un po'. Va bene, e comunque, no, niente, tutto bene, alimentatevi bene e ci vediamo. Ciao!